Ho visto cose a 19 anni che nessuno dovrebbe vedere nella vita. Oggi continuo a rivederle. Nam è la cronaca della guerra in Vietnam, combattuta da ragazzi di 19 anni in una giungla da incubo contro un nemico implacabile. Nam, la voce dei protagonisti, spiega perché la più potente macchina bellica del mondo ha perso. Nam, da oggi in edicola, in soli 20 fascicoli.